A partire dal 24 febbraio 2022 i pacifisti in Italia sono stati derisi, in alcuni casi diffamati, insultati e bersagliati. Questa è la prima parte del mio intervento, la descrizione della situazione in cui noi ci troviamo, un attacco violentissimo sotto il profilo culturale al movimento pacifista. E questo presenta innanzitutto un grande paradosso, perché attaccare la cultura della pace e attaccare i pacifisti significa attaccare la Costituzione italiana, perché la Costituzione italiana è una Costituzione che promuove la cultura della pace e che rende politicamente normali i pacifisti. Che cosa vuol dire essere politicamente normali in una società politica? Ciò che è normale e ciò che è patologico in una comunità umana, in una società politica, viene definito, almeno nelle nostre società, nella gran parte dei casi dalla Costituzione. E con riferimento alla Costituzione italiana, che noi diciamo che è patologico essere neonazisti o essere fascisti. Oggi però noi viviamo in un tempo in cui ci dicono che è patologico essere pacifisti. Qualcosa non torna perché la Costituzione italiana normalizza il pacifismo e la cultura della pace. Quindi il lavoro che il Corriere della Sera, la Repubblica, la Stampa, Libero, il Giornale, il Foglio devono fare è un lavoro molto difficile, perché devono costruire un mondo che non esiste. Devono sostanzialmente inventare una storia in cui i pacifisti sono persone spreggevoli, sono persone immorali. E qual è la strategia culturale che utilizzano questi quotidiani, tante trasmissioni televisive e trasmissioni radiofoniche? Siccome sono consapevoli che questo attacco culturale non può essere diretto, perché attaccare la cultura della pace significa attaccare la Costituzione, la strategia che utilizzano è il disconoscere l'esistenza dei pacifisti. Quindi questa strategia culturale riposa innanzitutto sulla creazione di un lessico specialistico, di un linguaggio specialistico. Nessuno parla dei pacifisti. I pacifisti sono soltanto o pacifinti o putiniani. I veri pacifisti non esistono per il Corriere della Sera, per la Repubblica, per la Stampa, Libro, il Giornale, il Foglio, eccetera, eccetera. Quindi la creazione di un nuovo linguaggio per prendere il sopravvento sulle rappresentazioni collettive. Questa è la descrizione del tempo in cui viviamo. Vediamo adesso alla spiegazione, le cause. Come è possibile che il Corriere della Sera, la Repubblica, la Stampa, Libro, il Giornale, il Foglio, eccetera, eccetera, attacchino così violentemente coloro che si riconoscono, rispettano e cercano di promuovere i valori fondamentali della Costituzione italiana. Adesso io cercherò di spostarmi dal piano macro sociologico al piano micro sociologico. Cercherò di mostrarvi come le grandi trasformazioni geopolitiche che hanno investito il mondo negli ultimi trent'anni abbiano influenzato il modo in cui i giornalisti del Corriere della Sera scriveranno questa sera gli articoli che usciranno domani. Quindi cercherò di mostrarvi questo collegamento, cioè le trasformazioni che hanno investito il mondo, trasformazioni geopolitiche negli ultimi trent'anni, e gli articoli scritti da Luciano Fontana, da Maurizio Morinari. Ora, questo violentissimo attacco contro il movimento pacifista ha una prima causa lontana, che è la caduta del muro di Berlino. Quando è caduto il muro di Berlino, nella società internazionale si sono liberate enormi quote di potere mondiale e gli Stati Uniti e la Nato, più in generale quello che io chiamo il blocco occidentale, si sono lanciati nell'arena internazionale per fare man bassa, per acquisire queste quote di potere mondiale, rimaste libere a causa del crollo della Russia. Nel mio primo libro che si intitola Ucraina, critica della politica internazionale, spiego che la Russia ha attraversato due grandi fasi, la prima la chiamo il periodo nero della Russia, adesso non mi soffermo su questo, se no ci andrei troppo lontano, ma se foste interessati in tutta la documentazione la trovate in questo mio primo libro. La Russia nel 1993 ha una terribile guerra civile che culmina con il bombardamento del Parlamento russo, tra il 1994 e il 1996 la Russia perde la prima guerra cecena, perde la prima ma vincere alla seconda sotto Putin tra il 1999 e il 2009, nell'agosto del 1998 anche come conseguenza dell'impoverimento causato dalla guerra in Cecenia la Russia va in bancarotta, la Russia è in ginocchio, la Russia è semplicemente crollata e la Nato approfitta di questo crollo per bombardare la Serbia nel marzo del 1999, la documentazione storica non lascia dubbi sull'opposizione feroce che Yeltsin oppose al bombardamento Nato della Serbia. Ora prestate attenzione perché un po' alla volta io vi mostrerò che non esiste nel mondo nessuna alleanza che violi il diritto internazionale come le democrazie occidentali. infatti il bombardamento Nato della Serbia è stato un bombardamento in violazione del diritto internazionale e noi vedremo che la Nato nel 2011 bombarderà la Libia in violazione del diritto internazionale, che gli Stati Uniti nel 2003 invaderanno l'Iraq in violazione del diritto internazionale. Non c'è nessuna civiltà che negli ultimi 30 anni abbia violato il diritto internazionale come le democrazie occidentali guidate dagli Stati Uniti. Ora seguitemi perché un po' alla volta arriveremo agli articoli del Corriere della Sera perché questo è il mio obiettivo, legare il contesto macro con il contesto micro, se posso esprimermi in questo modo. E che cosa accade in questo tempo? Accade che l'Occidente si espande enormemente e noi dobbiamo capire come questa espansione abbia avuto ripercussioni in Italia. Ebbene, la Nato viene fondata nel 1949 da 12 paesi. Oggi la Nato si compone di 32 stati, anzi in realtà 33 perché come vi mostrerò l'Ucraina è un membro di fatto della Nato. E questa espansione della Nato avviene proprio quando la Russia è in ginocchio. Infatti nel 1997, subito dopo la sconfitta della Russia in Cecenia e l'anno prima che la Russia vada in bancarotta, agosto 1998, la Albright avvia il processo di integrazione nella Nato di tre paesi che entreranno ufficialmente nella Nato nel 1999. Sono la Repubblica cieca, l'Ungheria e la Polonia. Il Cremlino tuona contro questa manovra. La Nato nel 2004 ingloba altri sette paesi. Io voglio mostrare, voglio porre davanti ai vostri occhi l'espansione del blocco occidentale. Perché tutta la documentazione storica ci dice che oggi l'ordine internazionale è destabilizzato dall'espansione impressionante dell'Occidente. Nel 2004 la Nato assorbe l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Slovacchia, la Bulgaria, la Romania e anche la Slovenia. Siamo a dieci paesi tra il 1999 e il 2004. Il Corriere della Sera ha scritto molte volte che questi paesi sono entrati nella Nato perché avevano paura di essere invasi dalla Russia. È falso. Semplicemente falso. Io ho compulsato la documentazione storica dell'epoca e non c'è traccia di questa paura da parte di quei paesi. Io ho guardato anche i resoconti degli incontri tra l'allora segretaria generale della Nato e Putin e non c'è traccia di questa motivazione per l'ingresso di questi paesi. L'argomento principale all'epoca dei fatti nell'Occidente era che questi paesi dovessero essere assorbiti, per esempio nel 1999, per proteggerli dal crollo della Russia e dall'instabilità in cui, questo diceva la Nato, quei paesi sarebbero potuti precipitare a causa dell'instabilità della Russia. Io non mi soffermo su questo argomento perché l'ho trattato nel mio primo libro, appunto Ucraina, critica della politica internazionale, mi limito a dire che non è così, è assolutamente falso che quei paesi siano entrati nel 1999 e nel 2004 nella Nato perché temevano di essere invasi dalla Russia. Non c'è traccia nella documentazione storica dell'epoca di questa motivazione. Questo quindi è il primo punto per capire l'Italia oggi. questa espansione impressionante della Nato che arriva ai confini della Russia. Il secondo elemento geopolitico di trasformazione della società internazionale che dobbiamo considerare per capire oggi l'attacco ai pacifisti in Italia è un altro fenomeno storico importantissimo, l'assorbimento dell'Unione Europea dentro la Nato. Dei 27 paesi che compongono l'Unione Europea, 23 fanno parte della Nato. Quindi noi dovremmo aspettarci, anche in base al principio maggioritario, che sia l'Unione Europea a dire alla Nato ciò che deve fare. Invece è vero esattamente il contrario, è la Nato, cioè la Casa Bianca, che dice all'Unione Europea quello che deve fare. Questi due elementi sono fondamentali per capire l'oggi perché questa espansione impressionante del blocco occidentale ha precipitato l'Italia nelle guerre della Nato e nelle guerre degli Stati Uniti, tant'è vero che l'Italia viene precipitata in una missione di pace che in realtà è una missione di guerra in Afghanistan per cinque anni dal 2001 al 2006 e poi l'Italia dentro questo movimento espansivo dell'Occidente viene precipitato in un'altra missione di pace che in realtà è una missione di guerra, tra il 2003 e il 2006 la missione italiana in Iraq. A questo punto il Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, Libero, Il Giornale, Il Foglio, oggi questi giornali sono i portavoci della Casa Bianca, fanno un lavoro molto semplice, diffondere la propaganda della Casa Bianca. Non è molto difficile comprendere perché questi giornali attacchino così violentamente il movimento pacifista e le cause per cui lo fanno. È un processo di egemonizzazione della cosiddetta stampa dominante in Italia da parte della Casa Bianca. Infatti se voi fate un'analisi della documentazione scritta vedrete che la propaganda della Casa Bianca viene riprodotta e diffusa in maniera fedelissima dal Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, Libero, Il Giornale, Il Foglio e così via. Cioè se voi fate l'analisi comparata dei documenti scritti vedrete che questi documenti sono sovrapponibili, i documenti di propaganda della Casa Bianca, cioè l'interpretazione della guerra in Ucraina della Casa Bianca e l'interpretazione della guerra in Ucraina, La Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, Libero, Il Giornale, Il Foglio e chi più ne ha più ne metta. Il problema dunque è che noi andiamo verso un mondo di guerre e noi italiani dobbiamo essere precipitati in queste guerre. Il problema è che la nostra Costituzione ostacola la partecipazione dell'Italia alle guerre e quindi in primo luogo c'è una battaglia nel dominio della cultura per convincere gli italiani che l'articolo 11 della Costituzione conceda, consenta al governo Meloni e prima ancora al governo Draghi di alimentare dall'esterno una guerra per procura per due anni e mezzo. Semplicemente l'articolo 11 della Costituzione non lo consente, ma noi siamo stati talmente ubriagati dalla propaganda che ne abbiamo addirittura dei costituzionalisti che siedono ai vertici della Repubblica che sostengono che la Costituzione italiana consentirebbe al governo Meloni e prima ancora al governo Draghi di alimentare per due anni e mezzo una guerra per procura. Inoltre l'articolo 11 della Costituzione italiana non soltanto dice che l'Italia non può dirimere le controverse internazionali, che ripudia l'uso della guerra per dirimere le controverse internazionali, dice anche che quando scoppia una guerra, sostanzialmente dice questo, l'Italia deve precipitarsi a spegnere le guerre con la diplomazia, favorendo le organizzazioni di pace. E qual è stata la strategia anticostituzionale del governo Draghi e del governo Meloni? Questa strategia è basata su due pilastri. Il primo pilastro è l'esecrazione della diplomazia e il secondo pilastro è invio di armi all'infinito per la sconfitta della Russia sul campo, tant'è vero che Paolo Gentiloni soltanto ieri ha dichiarato che l'Ucraina deve essere sostenuta, cioè che l'Italia deve inviare armi all'Ucraina per tutto il tempo necessario, perché come insegnano i grandi maestri del realismo politico, che con nostro grandissimo orgoglio sono italiani, Machiavelli, Getano Mosca, Robert Michels, Vilfredo Pareto, bisogna trovare delle formule politiche, bisogna trovare un lessico adeguato per nascondere la realtà. Quindi il lessico che noi utilizziamo è noi inviamo armi per favorire la pace. All'inizio quando è scoppiata la guerra io dicevo ma state scherzando, inviando le armi noi avremo una sirianizzazione della guerra, è un'escalation sempre più grave, ma tu non sei un pacifista, tu sei un corrotto, sei un maledetto, sei un venduto, sei in combutta con il Cremlino. I fatti sono andati esattamente come avevo previsto, infatti quando è scoppiata la guerra io ho fatto una previsione sotto forma di regolarità empirica ho detto per ogni proiettile della Nato che l'Ucraina lancerà contro la Russia, la Russia lancerà 10 proiettili contro l'Ucraina e tutti i dati che provengono dal campo mi hanno dato perfettamente ragione. Tant'è vero che ci sono delle testimonianze e le testimonianze dei generali ucraini, per esempio il generale che controlla il settore a sud, quindi anche il settore di Bakhmut, così testualmente. Ci siamo ritirati da Avdivka perché noi sparavamo un colpo d'artiglieria al giorno, i russi 10, eravamo in un rapporto di 1 a 10, sia nell'artiglieria in alcuni casi anche nei soldati. Quindi io dissi maggiore sarà la quantità di armi che noi invieremo più la pace si allontanerà, invece l'argomento del governo Draghi, pensate che gigantesca operazione di manipolazione dell'opinione pubblica, no! Se voi volete la pace dobbiamo inviare tantissime armi per la sconfitta della Russia sul campo. La Costituzione italiana non consente di esecrare la diplomazia e non consente di alimentare le guerre per procura per due anni e mezzo, tanto più che sono guerre a rischio nucleare, ad alto rischio di una guerra nucleare. Esempi di esecrazione della diplomazia noi ne abbiamo moltissimi, ad esempio c'è stato un G20, se ricordo bene a dicembre 2023, in cui la Meloni si è rivolta a Putin e gli ha detto, Putin aveva a un certo punto fatto il suo intervento dicendo a un certo punto noi dobbiamo trovare una soluzione a questa tragedia in Ucraina, per porre fine a questa tragedia. E Giorgia Meloni gli ha risposto, caro Presidente, se lei vuole porre fine alla guerra in Ucraina fa subito, basta semplicemente che lei ritiri tutte le truppe dal territorio ucraino. Ora, che cosa significa politicamente questa frase? Significa l'Italia persegue come obiettivo quello di alimentare la guerra in Ucraina dall'esterno fino alla sconfitta della Russia, perché dire a Putin la soluzione diplomatica al conflitto e che tu accetti la resa senza condizioni è sostanzialmente violare l'articolo 11 della Costituzione italiana utilizzando un linguaggio che nasconda questa violazione. E questa è ancora la strategia del governo italiano, sconfiggere la Russia sul campo. Semplicemente la Costituzione non consente di operare in questo modo. E allora se la Costituzione non lo consente, bisogna creare un mondo che non esiste. E per creare un mondo che non esiste occorre costruire una macchina della propaganda spaventosa. E qui vengo a una delle tesi che espongo nei miei libri, e cioè che l'analisi dei documenti a nostra disposizione dice chiaramente che il sistema dell'informazione in Italia sulla politica internazionale è organizzato esattamente come nelle dittature. Ora provate a immaginare quello che, proviamo a pensare quello che fanno i giornalisti russi. I conduttori televisivi della Russia che cosa fanno? Dicono che tutta la ragione è dalla parte di Putin e tutti i torti sono dalla parte della Nato. E che cosa fanno tutti i conduttori televisivi italiani con pochissime eccezioni? Dicono che tutti i torti sono di Putin e tutte le ragioni sono della Nato. Quindi da un punto di vista sociologico svolgono la stessa identica funzione, quella di creare consensi intorno alle politiche dei rispettivi governi. C'è un dato statistico che ci fa comprendere quanto il sistema dell'informazione in Italia sia corrotto. La stragrande maggioranza degli italiani è contrario all'invio delle armi in Ucraina. Ma il 99% dei conduttori televisivi, il 99% dei direttori dei quotidiani e il 99% degli speaker radiofonici sono favorevoli all'invio delle armi in Ucraina, quindi sono favorevoli alle politiche della Casa Bianca. E questo dato è anomalo perché tutti questi conduttori televisivi e direttori di giornali ci dovrebbe essere una distribuzione diversa. Se tu in Italia non so hai il 60%, dico dei numeri per far capire il mio ragionamento, il 60% o il 70% di italiani che è contrario all'invio delle armi dovresti avere tanti conduttori televisivi, tanti speaker radiofonici, tanti direttori di giornali che sono contro l'invio delle armi. Invece tu hai il 70% degli italiani che è contrario all'invio delle armi e il 99% dei direttori di giornali, dei conduttori televisivi, degli speaker radiofonici che sono favorevoli all'invio delle armi. E noi sappiamo anche perché ci sono i video di famosissimi conduttori televisivi, appunto in questi video dicevano che è una follia l'espansione della NATO al confine della Russia, causerà una guerra e oggi dicono che la colpa è tutta della Russia e che la NATO è un'organizzazione di santi.